Daria Seri con chitarrina in concerto e Anna Monaco con pappardelle al sugo di cinghiale vincono all'Hotel du Parc di Atri il campionato italiano della cucina per casalinghe. In giuria Franca Minucci, ma in definitiva cosa ha vinto questa sera? Ha vinto sicuramente da una parte la tradizione che era quello appunto con il cinghiale, che era un sugo classico, però è sempre molto evocativo perché insomma il cinghiale poi è un animale un po' così selvaggio, quindi ha un profumo e un sapore completamente particolare. E poi perché ha vinto l'innovazione, in quanto in quel piatto, in quel tagliolino diciamo che un pochino era la chitarrina, la nostra chitarrina, con queste pallottine diciamo così scisse in costruzione è stato molto interessante come piatto, come impostazione del lavoro proprio. 13 elaborati, ma ecco tanti, tra primi e secondi piatti, ma si è avuto proprio uno spaccato esatto di quello che rappresenta la cucina tipica abruzzese? Assolutamente sì, in fondo le casalinghe sono loro che detengono questo grande potere che è quello di portare avanti la tradizione, di conservare i nostri piatti con i nostri prodotti che loro in genere comprano sempre in maniera molto oculata, attenta, perché si servono nei mercati, si servono nelle zone giuste o addirittura no, proprio dai contadini. Quindi in qualche modo le casalinghe sono veramente le protettrici della nostra tradizione, della nostra cultura e sapere che noi conserviamo attraverso loro, attraverso il loro impegno, attraverso il loro amore, il calore di questo loro lavoro, di quello che fanno, è veramente sentirle come dei personaggi, delle protagoniste di questa storia e della storia della nostra terra. Tra i piatti premiati il pollo alla pizzo ferratese, poi ancora sagne ceci, la pasta alla trappetara, le linguine allo scoglio, le sagne a pezzi con il pomodoro, quale di questi piatti l'ha colpita? Beh insomma c'è una sagnetta così col pomodoro che sembrerebbe niente, non sembrerebbe quasi nulla come tipo di piatto perché non è elaborato, non è niente, però è così evocativo perché proprio pensi, per esempio pensi anche alla mititura, quando le donne andavano con i canestri in testa e portavano proprio questo piccolo, questo primo che era pieno di, in fondo era pieno di calore, di umori, ma anche di proteine, perché poi aveva insomma il pomodoro, aveva quindi i vegetali dentro, e così è stato riproposto allo stesso modo, con la stessa semplicità, con la stessa purezza, ed è un piatto assolutamente straordinario.